E' la storia dei mondiali di calcio, di tutti i mondiali, dei primi nel 1930 in Uruguay a quelli del 2010 in Sudafrica. Parla di uomini, passioni, grandi vittorie, amare sconfitte, libro Notti Magiche, raccontate con le parole poche, con il linguaggio spigliato degli sportivi, ma soprattutto con le immagini anche di altri avvenimenti politici e sociali accaduti durante i campionati del mondo. L'autore Nicola Mascellaro le ha raccolte per anni. La Di Massico Libri, il signor Di Massico in particolare, ci ha creduto e ha voluto realizzarlo. In questo modo l'ha voluto realizzare lui, ma poi è esattamente come avrei voluto farlo io. Sfogliamo Notti Magiche, ci soffermiamo sui mondiali dell'Italia campione del mondo, 1934-1982-2006. Io ricordo invece il 90, anche perché qui c'eravamo un po' esaltati tutti. La Nazionale Italiana ha fatto, come si dice, la finalina, la partita per il terzo e quarto posto con l'Inghilterra. Poi qui i Matarrese hanno visto per la prima volta Platte e hanno preso Platte. Manotti Magiche è anche il titolo del lino dei mondiali del 90, per i quali lo stadio San Nicola fu costruito. Ci siamo seduti, abbiamo fatto lo stadio per i mondiali, perché ci hanno dato i soldi anche per farlo, e dovevamo sfruttarlo per il Bari e per questa nostra città e invece no, abbiamo fatto solo il Bari e il Bari poi piano piano è calato.